cari amici benvenuti in questo nuovo video questa volta come promesso vi porto un grande glitch per avere tanti soldi senza nessun requisito ma prima volevo ricordarvi che c'è in palio un super account glitchato per gta alla quale stiamo vedendo eccolo qua con un sacco di milioni che finiremo di mettere ancora è un sacco di vestiti super glitchati per saperne di più come riceverlo gratis basta che mi seguite su instagram che vi rimarrò il nome qui è in descrizione allora inizio dicendo che per fare questo glitch bisognerà usare il secondo personaggio nel secondo personaggio dovremmo avere degli appartamenti poco costosi e tutti e sei gli slot dovranno avere appartamenti poco costosi mentre che sul primo personaggio dovremo avere i primi tre slot con appartamenti meno costosi e gli altri tre con appartamenti di lusso cioè più costosi ma per chi se li potrà permettere per chi invece non potrà permettersi quelli di lusso incominceremo con quelli meno costosi per poi passare man mano alla seguente fase cioè quella più costosi detto questo ragazzi ora iniziamo con i glitch andiamo su start e clicchiamo per ritornare nella storia una volta che saremo entrati nella storia aspettiamo il tempo dovuto e cosa dovremmo fare andiamo su start e andremo su sessioni sola d'invito e lì ci fermeremo sulla schermata nera una volta che saremo nella schermata nera dovremo cliccare sul tasto ps e andare su galleria cattura andare su una clip e cliccare il tasto optional e andare sopra a ritaglia dopo di questo dobbiamo cliccare due volte il tasto ps e automaticamente ci porterà alla schermata di prima poi cliccheremo il tasto x e dovremo controllare in basso a destra la rotellina quando diventerà arancione una volta che diventerà ragione dovremo cliccare due volte il tasto ps e cliccare su ritaglia poi dopo ci apparirà se vogliamo sospendere l'applicazione in corso dopo di questo ritorneremo nel gioco e ci apparirà questa schermata e cliccheremo x due volte può capitare che qualche volta vi apparirà che i servizi della rockstar non siano disponibili in quel caso cosa dovete fare dovete rifare il glitch da capo quando respawneremo in sessione saremo con il secondo personaggio cosa dovremmo fare dovrei mandare su seleziona personaggio e cliccare sul primo personaggio una volta che avremmo selezionato il personaggio quando poi torneremo in online respawneremo di nuovo con il secondo personaggio poi andremo sul telefono e acquisteremo tre appartamenti di basso prezzo e li metteremo negli ultimi tre slot ragazzi arrivati a questo punto il glitch è riuscito cosa succederà ora ora voi quando andrete a fare qualche acquisto come vedete nel video i soldi apposta di scalare aumenteranno sul vostro budget di gta perciò ogni acquisto dei tre appartamenti che farete sugli ultimi tre slot i soldi apposta che scalare aumenteranno ecco a voi il glitch è stato fatto e volevo ricordarvi che non perderete né veicoli né appartamenti sul primo personaggio ragazzi detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto come gli altri arriviamo ai 250 like se ne vogliamo un altro ancora più figo in questi giorni arriverà un altro video con bei vestiti super glitchati come piace a voi ragazzi da djsall1984 è tutto se il video vi è piaciuto commentate lasciate like alla prossima miaoo ciao